Onore alla fiera del tartufo, faccio l'imbocca lupo per altri 28 anni della fiera del tartufo. Io spero che la feria di Alba che sta per cominciare, che il più successo avrà, io adoro il tartufo, adoro Alba e spero che continuate per molto molto tempo a darci queste cose qua. Il tartufo si identifica nel mondo solamente con il tartufo d'Alba, per cui vi faccio un grandissimo augurio e buco lupo per tutto. Auguro l'84esima edizione della fiera del tartufo di sapere essere quella che è sempre stata. C'è un momento internazionale di respiro mondiale intorno alla cultura italiana e a questo grandissimo prodotto. Che sia una fiesta inolvidabile otra vez e che tutto il mondo lo passi super bene, attendete con una sonrisa inigualabile e io me lo passi come in mia vita me lo ho passato. Osea che Aupa Alba, Aupa la trufa blanca che è una gioia gastronomica, cuidarla bene. Me da pena, non poter stare con voi, è un luogo che voglio, che abbia un ricordo meraviglioso, che anno a anno abbiamo la suerte di poter disfrutar di questa meraviglia della naturalezza che vi faccio in tutte le case dell'Europa e in mia casa Andenia. Felicidades, suerte, spero stare con voi, mentre tanto vi a disfrutar di questa trufa. Il tartufo bianco di Alba è il miglior prodotto del mondo, è lo che mi piace più, è meraviglioso, è magico. Felicidades per la edizione numero 84 della Ferea Internacional del Tartufo Bianco di Alba. Seguro che trufa non va a faltare. Noi, di verità, che il programma l'ho visto e è molto interessante. Quei suerte, che vanno. Faccio un grande auguri per la settimana prossima per la Ferea del Tartufo. Boca al lupo! Dal 10 ottobre si inaugura la Ferea del Tartufo di Alba, in bocca al lupo, a tutti quelli che avranno la fortuna di mangiare del gran tartufo bianco. Noi, di verità, che vanno. 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 Grazie a tutti.